Pronti alla war, chiama il pronto soccorso Sembra che ho ucciso Milano Perché da adesso è dipinta di rosso Che cos'è il bon ton? I miei fracking congano verso gli euro Metti il turbo in on, accedi l'iphone Se vuoi fare il serio Posso lì di in donne, la Louis Vuitton Per tornare intero